Anche questo non è infatto frequente oggi, noi siamo nell'epoca delle specializzazioni, quindi c'è lo storico che non conosce la storia dell'arte e invece lo storico dell'arte che non conosce la storia, perché invece è evidente che i due elementi sono interdipendenti. Ancora, e che ha dato detto l'altro senso, lo ripeto brevemente, è un tipo di cultura che applica una ideologia scientifica perfetta, cioè Mario risenisce sempre i tuoi, risenisce sempre i pareri contrastanti, non esclude mai, non scoperte che possono rimbaltare i dati già conosciuti. E questo non è il principio, e ancora poi, diciamo, è una cultura...